Per fare la differenza bisogna essere differenti. Un giorno ho visto passare sopra la mia testa un aeroplano molto basso con un grande frastuono. Ho guardato in alto e non ho più guardato in basso. Ho deciso in quel momento che nella mia vita avrei volato. Dello sbarco sulla Luna mi ricordo praticamente tutto, anche se avevo poco più di dieci anni. Io vengo da un piccolo paese in provincia di Modena, allora in montagna, che sembrava isolato dal mondo. E non avevamo neanche la televisione a casa. I miei mi accompagnarono a una delle pochissime televisioni che c'era in paese, in un bar che ovviamente rimase aperto tutta la notte per poter vedere questa grande avventura umana. Secondo me ha cambiato il mondo non da poco perché ha permesso a tante persone di capire qual è la nostra posizione relativa all'interno dell'universo e di quanto noi siamo piccoli. A change so dramatic, so intense, that projected humankind forward at an unimaginable speed. Everything after it became different, from our perception of the world around us, to the sense of possibility it gave to many different sectors, automotive included. Non avrei mai immaginato allora di avere la possibilità di volare nello spazio, però io ci ho creduto e quindi alla fine sono riuscito a realizzarlo. Vedere la terra dall'alto è sicuramente qualcosa di unico ed è molto emozionante dal punto di vista personale. E credo che trovare qualcosa che ci ispiri così tanto, ci emozioni così tanto, sarà molto difficile. Però io cerco di applicare quello che disse Marcel Proust tanti anni fa, che il vero viaggio consiste nel guardare anche cose che abbiamo già visto, ma con occhi nuovi. Per fare l'astronauta, sì, bisogna sentirlo come passione. Ci vuole una certa dose di coraggio, ci vuole coraggio per rimanere determinati nella propria strada, per non abbattersi di fronte alla difficoltà, cercare anche il tuo limite, cercare sempre cose nuove, cercare una nuova avventura, nuovi stimoli. E per me sono sempre legati al futuro, a cose che vengono. Non si va dove sono andati gli altri, si va dove non sono andati gli altri, per cercare il limite. Progress always went hand in hand with curiosity, moved by the desire to create something new, different, Exploring the unexplored, following the road less traveled, is something that is necessary to make true innovation, more so for a sports car like the Countach. Con la velocità ho un rapporto intimo, perché la velocità è inebriante e quindi ti dà proprio quel senso di adrenalinico, di sfida con te stesso per riuscire ad andare sempre un po' più veloce. E poi per un pilota, come per qualcuno che guida una macchina ad alte prestazioni, la soddisfazione di poter domare un mezzo meccanico e piegarlo ai propri voleri. Quando ho guidato una Lamborghini è stata un'esperienza unica. Già solo da fermo, quando ho messo in moto il rombo del motore, qualcosa di veramente inebriante, perché mi piacciono le cose meccaniche, la perfezione in assoluto e poi la guida è stata entusiasmante. L'aeronautica e l'automotive sono veramente due mondi molto contigui, in cui c'è un continuo travaso di tecnologie dall'uno all'altro. È vero che l'automotive ha pescato molto nel campo dell'aeronautica negli anni passati, sui metodi di progettazione e soprattutto sui materiali, nonché ovviamente sullo stile, perché l'aeronautica si basa sull'aerodinamica, e ovviamente l'aerodinamica sulle macchine, soprattutto macchine molto performanti come la Lamborghini, è diventato qualcosa di molto molto importante al giorno d'oggi. Quindi sono due mondi che si toccano e che si scambiano continuamente, e tecnologie. La tecnologia deve essere sempre al servizio dell'uomo, deve essere abilitante per poter permettere di raggiungere mete, fino a un minuto prima, impossibili. L'avventura più bella è sempre quella che deve ancora venire.